dopo diversi anni ragazzi l'ho cambiata e adesso vi spiego anche anche il perché oggi ragazzi parliamo di una delle migliori soluzioni smart che ho scoperto sia per il mio ufficio e probabilmente presto lo vedrete anche all'interno della mia abitazione parlo della switchbot look pro se seguite il mio canale ragazzi probabilmente sapete bene che non è la prima serratura smart che testo anzi a dire il vero è ormai tantissimi anni che ne utilizzo una dentro casa e nel mio ufficio e vi giuro non potrei più farne farne a meno prima di cominciare però ragazzi mi raccomando lasciate un bel like per andare ad alimentare l'algoritmo di youtube questo permette di far conoscere i miei video anche a chi non è ancora iscritto e se ancora non l'aveste fatto anche iscrivetevi a questo canale vi ringrazio per voi è completamente gratis ma mi dà davvero un gran supporto così non vi perderete più tutte quante le mie novità tech all'interno di questo canale nel video di oggi ragazzi non solo vi mostrerò come funziona questa look pro di switchbot ma anche quanto è davvero facile da installare tutte le sue caratteristiche che sono davvero al top e vi racconterò anche alcuni scenari pratici in cui io la utilizzo qui nel mio ufficio e probabilmente presto anche a casa come già detto ma partiamo dall'inizio quindi cosa troviamo all'interno della confezione allora questa è la confezione di vendita della switchbot look pro questo piccolo gioiolino tecnologico insieme ai vari adattatori per assicurarsi che si adatti a qualsiasi tipo di serratura e vi assicuro praticamente è installabile ovunque troviamo anche il supporto adesivo per incollarla così da non dover forare e non far danni alla porta del nostro condominio appartamento ufficio e abbiamo anche le batterie incluse visto che come avete capito parto già da una serratura che conosco da diversi anni di cui ragazzi devo parlarne assolutissimamente bene perché per me è stato un prodotto eccellente voglio farvi vedere anche le differenze rispetto a questo prodotto che vi sto presentando oggi che ha un rapporto qualità prezzo davvero super vantaggioso ed ha anche un'ottima qualità e quindi partiamo immediatamente dal design quindi partendo dal design a mio avviso soprattutto a casa avendo una porta bianca diciamo che preferisco la Nuki mentre qui in ufficio devo dirvi che questa versione completamente nera di switchbot ci sta alla grandissima e non mi dispiace affatto a livello costruttivo devo dirvi che questa nuova versione di switchbot risulta davvero solida e ben costruita veramente veramente ben costruita ma soprattutto pratica anche nell'andare a sostituire il pacco batterie che spoiler è già in confezione e vi dico già dura tantissimo in confezione nel bundle che troverete scontato con il link qui sotto in descrizione oltre alla serratura troverete anche il K-Pad Touch oltre a Lab Mini che questo permette la tastierina di sbloccare con impronta la nostra serratura o inserendo un codice mentre Lab Mini serve per andare a interagire con ovviamente la serratura da remoto anche da un altro posto da un qualsiasi posto del mondo voi potete aprire e chiudere la porta del vostro ufficio e della vostra abitazione e sempre all'interno della confezione troverete anche questa card NFC che potete dare al giardiniere, l'idraulico, l'elettricista, chi volete oppure un vostro collaboratore per aprire l'ufficio e quindi poter farlo entrare senza dargli i codici senza registrare l'impronta e dopo può renderla o comunque voi potete comunque eventualmente eliminarla direttamente dall'app quindi potete anche renderla utilizzabile per un periodo di tempo e basta ragazzi credetemi l'installazione è davvero alla portata di tutti basta attaccarlo alla serratura, fissarlo con l'adesivo o come ho fatto io utilizzando le viti che si trovano proprio nella dima apposita adatta ovviamente alla serratura che avete a casa vostra e visto che ci sono vi dico già che i tempi di installazione sono praticamente gli stessi identici di una serratura di nuchi proprio identici, non ci vuole nulla di più e nulla di meno anche qui come succede poi con tutte le altre serrature smart che vi ho già portato qui sul canale che andrete ad installare dovrete comunque verificare tramite il sito in questo caso di switchbot se la vostra serratura risulta compatibile per un'installazione ovviamente come quella che ho fatto io nel mio caso specifico io ho utilizzato la chiave dentro la serratura qui dell'ufficio ma se avete ad esempio un pommello all'interno della vostra abitazione o ufficio avrete tutti i vari adattatori in confezione così non dovrete acquistare nulla e potrete adattare la serratura di switchbot in qualsiasi tipo di porta in pratica quindi troverete già tutto all'interno della confezione e non dovrete acquistare nulla in più per installarla inoltre l'applicazione di switchbot è davvero incredibilmente dettagliata all'inizio vi farà seguire passo passo tutto quello che dovrete sapere per non sbagliare l'installazione e nel mio caso vi ho già detto un attimo fa in meno di 5 minuti la mia porta era tornata ad essere smart ma passiamo al pratico ragazzi una volta individuato cosa ci serve per l'installazione in base a tutti gli accessori che abbiamo in confezione attaccheremo la flangia adatta alla nostra serratura poi scarichiamo l'applicazione di switchbot che è fantastica configuriamo per prima cosa l'app mini che troverete all'interno di questo bundle per far comunicare tramite connessione internet la nostra serratura e tranquilli ragazzi funziona anche via bluetooth quindi se siete tra quelli che non vogliono avere una connessione internet per la serratura perché non vi fidate gli hacker tutte quelle robe lì che comunque vi dico è estremamente sicuro potete farlo anche solo quando siete vicino alla porta ovvero aprirla e chiuderla anche se a mio avviso perdereste tutte quelle che sono poi le notifiche e la qualità di avere proprio una serratura smart in un ufficio o in un'abitazione ma c'è una genialata ragazzi da parte di questo hub mini non solo quindi questo vi permette di tenere connessa la serratura di internet e poterla manovrare da qualsiasi posto del mondo ma anche un'altra particolarità nonostante il prezzo basso ovvero possiamo utilizzarla come sensore ad infrarossi e quindi una volta configurata correttamente e è dato ovviamente i vari comandi possiamo ad esempio aggiungere un televisore e usare il nostro smartphone per accendere, spegnere, cambiare canale o alzare il volume di un televisore accendere o spegnere un condizionatore da remoto o semplicemente accendere o spegnere una lampada tutto da un hub mini che permette di fare più cose ovviamente se volete utilizzarlo fatto questo ragazzi dobbiamo passare direttamente alla nostra serratura quindi andiamo alla porta dobbiamo aggiungere all'applicazione la nostra serratura ed eseguire passo passo tutto ciò che ci viene chiesto da app ma mi raccomando cosa molto importante aggiornate il firmware e anche questo è una cosa molto figa di switchbot ogni prodotto che ho installato mi chiedeva comunque un update di fare un aggiornamento cosa che dimostra quanto l'azienda si attenta nei confronti dei propri prodotti sempre all'interno poi della confezione oltre alla serratura troviamo anche questo piccolo accessorio che va fissato alla porta al fianco della serratura per intenderci nella parte ferma del serramento questa fa capire alla serratura se la porta è chiusa oppure aperta e quindi da remoto ci permette appunto di essere tranquilli se non ci ricordiamo se abbiamo chiuso la porta oppure no tra l'altro questo accessorio è compreso in confezione mentre con la Nuki ricordo di averlo acquistato a parte averlo pagato mi sembra circa 50 o 60 euro quindi anche questa insomma ragazzi è compreso in confezione in questo caso detto questo finita tutta l'installazione e seguito passo passo ciò che ci viene chiesto direttamente all'interno dell'app la nostra serratura è perfettamente funzionante apertura e chiusura da app apertura o chiusura manualmente dalla ghiera dentata che si trova nella parte frontale o semplicemente con un piccolo click nel bottone che troviamo sulla serratura qui voglio fare e dirvi un'altra piccola cosa un'aggiunta il motore è davvero molto potente perché questa porta del mio ufficio è particolarmente dura soprattutto quando c'è vento a volte sento il motore che aveva delle difficoltà con il prodotto onuki questa versione invece ha un motore che innanzitutto è un pochettino più silenzioso più veloce e si sente che ha più cavalleria più potenza nell'andare a girare la serratura, la chiave no? quindi oh tanta roba ragazzi ma la vera figata avviene adesso in quanto all'interno del bundle qui scontato con il link in descrizione abbiamo anche questa tastiera bluetooth chiede anche questa batteria batteria compresa con lentore di impronte digitale capace anche di leggere delle card NFC tra l'altro in confezione troviamo anche appunto la carta come già detto ed è la svolta ed è proprio probabilmente grazie a questa pulsantiera che ho deciso di passare definitivamente a SwitchBot rispetto alla mia Nuki il primo motivo a mio avviso riguarda l'impermeabilità SwitchBot è IP65 mentre il tastierino di Nuki è IP54 ovviamente nel tempo questa può fare la differenza però non ho mai avuto problemi con quella di Nuki all'aperto ma effettivamente la SwitchBot risulta un po' più strutturata e pensata secondo me per stare proprio sotto le intemperie l'altro motivo riguarda il sistema di fissaggio del tastierino SwitchBot è stato pensato con un sistema di fissaggio con una piastrina di acciaio che si può fissare anche con delle viti oltre che con del biadesivo mentre per quanto riguarda Nuki si può fissare solo con del biadesivo e non si può attaccare nessuna vite ma l'altra differenza riguarda il sistema di rimozione del tastierino infatti in Nuki basta semplicemente sfilarlo e viene rimosso semplicemente mentre con il tastierino di SwitchBot è necessario un togli SIM quello per esempio per smartphone che fin qui non c'è nulla di che ci vuole un attimo per procurarselo ma la vera differenza è che SwitchBot ci manda anche una notifica immediata sullo smartphone quando questo viene rimosso e quindi ci permette di essere avvisati immediatamente se qualcuno ha tentato una semplice manomissione o per dispetto ci ha insomma fatto sparire il nostro tastierino ecco che questo fa tutta la differenza del mondo a mio avviso anche se ho appena letto dal sito internet di Nuki che se qualcuno ci andrà a rubare il nostro tastierino possiamo mandare la denuncia di carabinieri a Nuki e Nuki ci invierà un tastierino nuovo questo è quanto riportato sul sito per trasparenza vi dico tutto detto questo cari ragazzi il sistema di sblocco tramite impronta funziona davvero da 10 benissimo è velocissimo nel riconoscimento dell'impronta posso aggiungere diverse impronte sia una mia o più di una mia e anche quella di mia moglie ad esempio per facilitarla l'ingresso del mio ufficio oltre a ciò posso anche creare un codice di eccesso temporaneo o permanente da utilizzare col tastierino posso quindi darlo a collaboratori o parenti in più ho anche una card NFC da utilizzare per lo sblocco se non voglio dare nessun tipo di codice uno arriva la vicina e apre la porta ma a cosa può servire ragazzi una serratura smart è pericolosa e soprattutto perché dovreste utilizzarle una beh ragazzi io vi faccio degli esempi davvero molto pratici ho appena finito una chiamata di lavoro sono di corsa per una riunione e ho entrambi le mani ad esempio occupate con vari documenti, borse e quant'altro che faccio? mi basta appoggiare il dito sul k-pad touch e dentro del mio ufficio in un lampo senza cercare chiavi e quant'altro ad esempio questo è il primo scenario se sono fuori dall'ufficio e arriva il mio collaboratore o un cliente prima di me nessun problema se voglio posso sbloccare la porta da remoto direttamente da qualsiasi posto dove io mi trovi dall'app di switchbot anche a chilometri di distanza e lo faccio entrare non porto più come le chiavi ad esempio non mi servono perché in meno di 0,3 secondi sblocco con l'impronta il tutto quindi vedete un po' voi una delle cose che poi adoro di questo switchbot lock pro è la funzione di blocco automatico quando esco dall'ufficio la porta si blocca da sola dopo un tot di tempo e ricevo anche una notifica sul telefono che mi conferma che il tutto sia stato chiuso e bloccato nel modo corretto inoltre ragazzi con l'app mini posso anche collegare la serratura a google home, alexa e usare ovviamente tutti i comandi vocali ma è davvero sicura questa switchbot lock pro? beh ragazzi utilizza la crittografia AS128 che garantisce che ogni operazione di blocco e sblocco si assicura al 100% nessuno può accedere senza il nostro controllo senza il nostro permesso e tutto viene notificato direttamente dall'applicazione credo sia molto più facile ragazzi perdere le chiavi di casa o dell'ufficio che restare fuori da una porta come questa o addirittura insomma che qualcuno si metta ad hackerare il tutto fanno prima a buttare giù la porta e pensate ragazzi ad un ultimo scenario se avete dei figli non tanto grandi quanto più rassicurante è non dovergli dare le chiavi di casa ma piuttosto registrare la loro impronta e farli entrare quando ne hanno bisogno senza che abbiate tutte le volte nel patema d'animo che abbiano perso le chiavi in giro tanta roba no? e se si scarica la batteria? beh ragazzi il switchbot look pro funziona con 4 batterie A che durano più o meno tra i 6 e i 9 mesi ma se volete ancora più autonomia c'è il dual power pack che vi permette di arrivare addirittura fino a 12 mesi di batterie senza dover mai preoccuparvi di ricaricare ovviamente la nostra serratura e ovviamente ragazzi se le batterie finiscono comunque dall'esterno potete comunque aprire ancora la porta non è che siete fuori di casa non potete più entrare ah dimenticavo comunque l'applicazione ci notifica appena la batteria comincia ad essere scarica quindi ragazzi se siete in che ne so in Brasile per 3 mesi basta che chiamate un vostro parente amico gli dite guarda ti apro la porta mi cambi le batterie per favore magari quelle di stilo vi cambiano le batterie in un attimo tac e siete a posto cioè voglio dire è davvero difficile restare fuori da casa con una serratura come questa perché ragazzi la comodità estrema basta un attimo di accorgimento e non dovete più ricordarvi di portarvi dietro le chiavi fate un viaggio non dovete avere tutto il mazzo di chiavi in tasca e dover ricordarvi dove avete lasciato le chiavi per tutto il viaggio e quant'altro partite senza chiavi ed è una bomba ragazzi è una bomba quindi cari ragazzi se siete alla ricerca di una soluzione veramente smart per il vostro ufficio casa b&b appartamento in affitto non posso che consigliarvi la switchbot look pro facile da installare ragazzi facilissima semplice da usare e soprattutto super super sicura inoltre al prezzo scontato con il link in descrizione è davvero top questa cifra trovate tutti i link qui sotto ragazzi e quindi dategli un'occhiata se vi interessa un prodotto come questo ovviamente io vi lascio il box di commenti qui sotto aperto quindi se avete bisogno di sapere qualcosa qualcosa che non vi ho raccontato qualche dubbio scrivetemi qui sotto perché sarò pronto a rispondere a tutti voi ripeto io utilizzo da anni serrature smart mi sono sempre trovato benissimo con Nuki e continuerò a consigliarla perché è un ottimo prodotto qui si risparmia funziona davvero molto bene per certi versi addirittura l'ho trovata più completa e a questa cifra ragazzi risulta a mio avviso ad oggi davvero un best buy per questo tipo di prodotti davvero tanta tanta roba switchbot tra l'altro hanno un ecosistema incredibile di altri prodotti che ovviamente fanno un po' la differenza un'unica app che vi permette di utilizzare davvero tutto ragazzi come al solito se siete arrivati alla fine di questo video mi raccomando commentate con un bel hashtag viva switchbot per farmi sapere chi di voi ha guardato il video fino alla fine fate i bravi come dico sempre e come dice la mia mamma non litigate con nessuno ragazzi comunque questo davvero tanta roba fatemi sapere qui sotto come la pensate ciao ragazzi e buon viaggio e buone chiavi ricordatevi se avete perso anche una sola volta nella vostra vita le chiavi di casa questo può tornarvi davvero utile ciao ragazzi a presto ciao 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 ciao